eccomi manca un quarto a mezzanotte io sono scombinata con un riccio spessito altro che petardi non ce la posso farcela c'era una roba sullo schermo le di costi le di sedacola di nastrino salutano io se riesco ad arrivare a fine giornata agli occhietti che fanno il giacomo giacomo e ma il video sa da fare e torno mi stanno venendo i brufoli che non avevo nemmeno a 15 anni sarà la cioccolata dicevo anche le sopracciglia sono state pettinate le petardi ritorno scusate ma davvero sto cotta oggi proprio sono out stasera faccio un video in cui parlo di un'entità elevata si di nuovo riprendiamo un attimo in mano la playlist delle entità elevate con l'entità strasentita il suo nome l'abbiamo sentito persino nei cartoni animati degli anni 70 80 viene spesso paragonato al satana cristiano ebraico forse anche musulmano ma non ne sono particolarmente sicura in realtà questo nome gli è stato dato da una rivisitazione riveluta e corretta da un'altra divinità fenicia che probabilmente diede anche i natali a un'ennesima semi divinità greca per l'altro poco conosciuta di chi parlo lo avete letto nel titolo del signor belzebub belzebub anche chiamato il signore delle mosche belzebub è stato chiamato in maniera cristiana europea per lo più italiana semplicemente belzebub ma gli ebrei lo avevano nominato belzebub che a sua volta derivava dal nome belzebul o meglio baal zebul dove baal stava per dio il dio zebul il dio di tutto ciò che vola e per stavo per dire per ironia della sorte ma in realtà non è ironia della sorte ma semplice rimescolamento di carte da parte della religione monoteista che ha direttamente rovesciato il significato di questa antica divinità fenicia c'è un tratto che ve lo leggo direttamente delle citazioni del secondo libro dei re a cui forse la religione monoteista non aveva fatto tanto caso lasciandolo incorrotto nell'antico testamento che recita accazia cadde dalla finestra del piano di sopra e samaria rimase ferito allora inviò messaggeri con quest'ordine andate a interrogare baal zebul dio di ekron ekron era una città che era governata da questo dio per sapere se guarirò da questa infermità perché perché baal zebul il dio fenicio zebul altri non era che un dio che scacciava le malattie e le pestilenze quindi un dio benevolo che proteggeva dalle malattie ma con l'avvento in particolar modo del concilio di praga e con l'avvento della piccola chiave di salomone che non è stata scritta la salomone ve lo posso garantire ma riprende scritti buttati lì non si sa bene da chi del 1600 e peraltro con qualche scopiazzatura qualche appunto di qualcun altro ancora che non si sa chi sia del 1300 quindi proprio salomone c'entra una pippa con la goetia ma agli esoteristi piace pensarlo anzi agli occultisti comunque con l'avvento della goetia nella piccola chiave di salomone il dio zebul fenicio della città di ekrom chiamato appunto il fenicio baal zebul divenne baal zebub abbreviato poi per fare prima bel zebu e gli viene seppur lasciato il titolo di signore delle mosche gli viene appioppato l'effetto completamente opposto cioè il portatore di malattie di malaria di altre malattie vedendo nelle mosche degli insetti sporchi degli insetti che andavano su cose sporche e degli insetti che potevano portare pestilenze malattie e che si aggiravano anche sui cadaveri degli insetti che fanno relativamente abbastanza schifo ma la divinità baal zebul in realtà era il signore delle mosche ma era colui che scaccia le mosche il signore che le manda via che ai suoi ordini le fa allontanare non l'interpretazione monoteista che gli viene appioppata in seguito come al solito per allontanare i credenti dai loro vari culti e la città di ekrom e il dio baal zebul non fece differenza peraltro oltre a essere estremamente venerato in fenice zone limitrofe come appunto divinità protettrice della salute era stato anche assorbito nel periodo pre monoteismo dalla religione greca i greci che erano decisamente più democratici rispetto ai monoteisti avevano già un pantheon abbastanza formito e dei della medicina ce n'avevano che bastava schioccare le dita avrebbero dovuto campare novecento anni basti pensare a sculapio o a sclepio che dir si voglia e quindi ma anche questo dio qua però proprio proprio schifo non ci fa troviamo un modo per inserirlo nel nostro pantheon eh sì però ormai c'hanno più figli matrimoni e miscugli i nostri dei che beautiful che deve ancora uscire tra un tramilani circa come facciamo o ci inventiamo la dea brook che prende in parola il consiglio brook tu devi farti una famiglia oppure troviamo un escamotage e i greci erano bravissimi a trovare escamotage per incastrare personaggi di ogni credo e ogni culto all'interno del loro in effetti la mitologia greca è tra le più vaste in assoluto per racconti per divinità per semi divinità e quant'altro tanto che anche nel caso del dio fenicio balzebul venne creato un mito ad hoc il mito di un nuovo semi dio in questo caso non era figlio del trombaiolo per eccellenza quindi Zeus e di una qualche principessa ninfa dea sorella fratella e quant'altro come nel resto di para 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 mitologi full ma era un uomo in principio un mortale senza nulla di divino ma estremamente lince furbo di nome miagros miagros aveva la predizione di osservare secondo il mito greco il singolo comportamento di ogni essere vivente fosse questa una persona e quindi lo studio psicologico della persona che aveva di fronte e sia anche il comportamento generale della natura vegetale e animale successe che gli dèi dell'Olimpo Zeus Demetra Poseidone e tutti quanti tranne il mio amico Ade perché lui alle riunioni là sopra non ci andava aveva capito tutto si erano un attimino inalberati stavano tutti incazzati come delle bisce perché a ogni sacrificio al loro devoto al loro esposto dai loro fedeli c'era sempre un congruo mucchio di mosche e se era un sacrificio animale all'uccisione dell'animale arrivavano le mosche e se era un sacrificio con frutte e ortaggi al primo segno di cedimento di quel frutto arrivavano le mosche e in ogni caso i templi di tutto l'anderivieni dell'Olimpo erano sempre costellati di mosche e le divinità ce ne avevano le palle strapiene ma d'altro canto gradivano le offerte e quindi si stavano scervellando su come fare per evitare che queste mosche rovinassero ogni sacrosanta volta le loro offerte arrivò però voce sull'Olimpo il signor Hermes che non si faceva mai gli affaracci suoi in effetti era anche il dio della ciarlaggine del pettegolezzo riporta Zeus una notiziona che proprio il messaggero e la repubblica hanno scantarsi gli dice che tra gli umani esiste un tizio di nome Milagros in grado di acchiappare al volo le mosche come Hermes alias Mercurio dice questa cosa Zeus Zeus subito saltellanto tutto felice decide di convocare e di testare Miagros Miagros ovviamente prenderà la forma di un qualche riccone ma non di sicuro di una divinità e convoca quindi Ushu Miagros chiedendogli se fosse vero che lui era in grado di acchiappare le mosche al volo Miagros gli dice di sì e glielo dimostra mettono quindi su una tavola alcuni pezzi di carne che attiri in maniera più veloce gli sciami di mosche e una volta che le mosche arrivano si posano sulla carne nel procinto di ripartire in volo lui che proprio Kenshiro scansate pure te altro che occulto le ciapa tutte Zeus così gli chiede come abbia fatto e Miagros in maniera molto innocente e tranquilla risponde che aveva osservato per lungo tempo il comportamento delle mosche e si era reso conto che tutte le mosche avevano un metodo uguale di decollare quando erano appoggiate su un qualcosa secondo Miagros le mosche non si alzavano mai in volo ma sempre in picchiata partivano in picchiata quindi bastava guardare e osservare il verso in cui la mosca era girata per capire perfettamente in che traiettoria sarebbe partita poi ovviamente il discorso della velocità nella chiapparla era semplice allenamento Zeus trovandosi piacevolmente stupito dall'arguzia dall'intelligenza e dal modo stesso che aveva avuto di osservare di studiare quei piccoli insetti il signor Miagros decise di ciapparlo a moriva leggetta e portarselo sull'Olimpo dandogli quindi una semi-immortalità ovvero un'immortalità semi-divina e tenendoselo come signore delle mosche il nome rimase il nome l'appellativo rimase lo stesso quindi Miagros era un umano che era stato poi divinizzato da Zeus in accordo con gli altri dei come signore ufficiale di quei piccoli insettini fastidiosi che tanto disturbavano le cerimonie degli altri dei ma grazie alla sua capacità alla sua peculiarità di riuscire a individuare a bloccare le mosche nei loro voli venne anche poi in seguito anche in Grecia venerato come una divinità protettrice di moltissime malattie portate proprio dalle mosche in particolari protettore delle malattie di tipo gastrointestinale vermi ossiuri ossiuri tutto ciò che un po' riguardava le malattie portate dai insetti simili miagros miagros poi stranamente non venne importato nella religione romana seppur la religione greca era palesemente fusa con la religione etrusca anche se lì c'è ancora dibattito e non si sa bene se siano i greci ad aver rubato la religione agli etruschi o gli etruschi ad averla rubata ai greci ma molte divinità erano comunque ingucchiate ma sicuramente sono i greci che si sono andati a futtare anche le divinità etrusche come hanno fatto in mezzo mondo cambiandogli poi il nome e rendendole proprie cosicché il grande dio protettore delle malattie fenicio baal zebul in grecia divenne miagros mentre nel post greco e post impero romano politeista ovvero con l'avvento del monoteismo con l'avvento delle religioni che predicavano un dio unico il dio javè divenne come tutte le antiche divinità peraltro per lo più benevole delle vari dei vari paganesimi il demone belzebub rinominato poi belzebub perché facevi prima senza dire abbì che era sempre il signore delle mosche ma nel caso della religione monoteista che voleva screditare tutti gli altri dei dei vari panteon era divenuto colui che le mosche non le acchiappava le mandava per far arrivare pestilenze e malattie peraltro sempre dallo stesso dio fenicio quindi sempre dal filone di Baal Zebul venne estratto a caso anche un altro demone il demone Beric Beric in realtà in cananeo e in lingue assire in lingua mesopotamica generica non era una divinità non era un'entità non era nulla era una parola era un termine significava giuro in maniera giuro il nostro giuramento quando noi giuriamo su qualcosa di sacro ecco il Beric altro non era che il giuramento sacro e normalmente sotto le effigi in particolare ad Ekrom di Baal Zebul si usava praticare il Berit ovvero giurare sotto la statua del dio Zebul che ciò che stavo giurando fosse assoluta verità altrimenti in malattia mi colga questo era il senso ma presumibilmente alcuni untori delle vecchie religioni politeiste che volevano a tutti i costi distruggere la nomea di varie divinità non avendo ben compreso che la frase esatta in fenicio in cananeo fosse Berit Zebul cioè faccio giuramento sacro sotto Zebul pensarono nella loro ignoranza stiamo parlando di un'ignoranza medievale perché Berit nasce nel medioevo come divinità a sé o meglio come demone direttamente nasce anche Berit Berit peraltro appunto era l'appellativo di un dio generico un dio qualsiasi che infondeva sincerità al giuramento ma in particolar modo veniva utilizzato come vi dicevo prima sotto le statue del dio Zebul quindi il succo del discorso è che il fantomatico e tanto temuto demone delle malattie signore delle mosche Belzebù altri non è che Baal Zebul divenuto poi Berit anche e divenuto poi anche Miagros quindi l'ennesima entità elevata l'ennesima antica divinità pagana questa volta fenicia che ha subito uno scredito creato anche un pochettino at katsum in questo caso ribaltando completamente la frittata su se stesso dalla religione monoteista e per cui Belzebù colui che oggi viene chiamato Belzebù il signore delle mosche non è un demone che ci infligge malattie ma un demone o un daimon o un'entità elevata che in teoria ci protegge dalle malattie sempre se le richieste delle persone sono fatte con devozione e con educazione certo che essendo anche il protettore dei giuramenti se si giura il falso è anche facile che lui la malattia la invii per questo anche i nostri nonni ci dicevano spesso molto spesso spessissimo non giurare mai il falso non giurare sulla testa di nessuno non giurare su personaggi importanti non giurare mai a meno che non sei sicuro che il tuo giuramento lo porti a termine e questo era il signore delle mosche vi ricordo che qua sotto ci sono tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più sotto tre o quattro delle invece mille mila librerie che tengono in mente i miei libri ad oggi sempre otto anche quello di tutte le belle varie storie delle entità elevate è in progettazione ci vorrà del tempo ma uscirà e ovviamente come anche per i due libri delle testimonianze di una vita seppur ci sia anche la playlist sul canale ci saranno entità elevate di cui sul canale non ho parlato anche perché non posso fare tutti i giorni solo video sulle entità elevate e quindi ci saranno moltissime altre entità elevate di cui a voce non avevo dato descrizione ma questo sarà in un prossimo futuro che non so quanto sarà prossimo quindi per ora vi saluto vado a farmi la doccia che faccio schifo e poi mi vai mini vai alla curcu come diceva la mia amica calabrese quando eravamo ragazzine ciao 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 ciao